A questo punto, come dicono quelli bravi, andiamo senz'altro a incominciare. Il tema di cui vi parlo oggi è un tema che a me sta molto a cuore, nel senso che se mi cercate su Google è facile che troviate che io ho già parlato di questa roba in lungo e in largo, perché mi piace parlare di questo tema, perché credo che sia molto importante, perché credo che sia importante a diversi livelli e in diversi contesti. Spero che man mano, mentre vado avanti a raccontarvi cose, vi sarà chiaro perché. Ma prima di questo c'è un link molto pratico che magari vi condivido anche nella chat su Zoom per scaricare le slide e seguire se volete, se trovo la chat, se no no. E però a questo punto prima magari mi presento, visto che sono ancora così famoso da essere riconosciuto da tutti. Chi sono? Cosa faccio? Scrivo codice da tantissimo tempo, sia per lavoro che nel tempo libero, nel senso che sono anche maintainer di un paio di progetti open source, anche non banali. A un certo punto della mia vita ho fatto il developer advocate, che è una cosa in cui tu fondamentalmente ti occupi della developer experience, quindi fai in modo, nel mio caso, che chi ha a che fare con un API abbia l'esperienza più gradevole possibile. E come vi dicevo, sono un grande appassionato di cose open source e di calcio giovanile. Ho fatto l'allenatore per 15 anni e adesso purtroppo non lo faccio più. Ed è probabilmente un tema ricorrente nella mia storia, nel senso che mia madre faceva l'insegnante, mio nonno faceva l'insegnante, mia nonna faceva l'insegnante, mia zia faceva l'insegnante, quindi io probabilmente un po' nel DNA ce l'ho, che mi piace spiegare le cose alla gente. E quindi ho fatto l'insegnante anche per un certo periodo della mia vita e parlo spesso alle conferenze, ai meetup, agli eventi online nell'ultimo anno, e modero panel per Codemotion, parlo con Codemotion. Tra l'altro ho un panel di Codemotion dove ho conosciuto Nicole, che poi mi ha invitato e quindi è questa la nostra connessione. E come vi accennavo prima, se fossimo nel mondo di un anno e mezzo fa, la domanda che c'era su Slido io ve l'avrei fatta per alzata di mano, nel senso che avrei detto quanti di voi hanno mai sentito parlare di Codreview? Quanti di voi fanno Codreview perché gli hanno detto che è una cosa buona e quanti di voi sanno che è una cosa buona? Che secondo me è una distinzione molto sottile ma molto forte, nel senso che tipicamente tutti ti dicono devi fare le Codreview perché quelle sì che sono una buona idea, e però non sempre è evidente perché. Spesso e volentieri capita di incrociare dei team che fanno Codreview perché gli hanno detto di fare Codreview e non perché effettivamente ci credano. Quindi quello da cui voglio partire oggi è proprio spiegare perché secondo me è una buona idea e è un processo che qualunque team di qualunque dimensione e in qualunque contesto dovrebbe avere o comunque cercare di adattare alle proprie esigenze. E le ragioni sono secondo me molteplici e variegate. La prima è la legge di Linus. Linus in questione è un tizio piuttosto famoso che fa Torvalds di cognome e ha scritto un sistema operativo. E lui ha formulato questa legge che dice che se tu ci metti davanti un numero sufficiente di paia d'occhi, tutti i bug in un pezzo di codice vengono a galla. Quindi lui dice di fatto che fare Codreview, quindi mettere del codice di fronte a più paia di occhi possibile prima di rilasciarlo in produzione, è uno strumento per far emergere i bug. È uno strumento che quindi ti riduce il costo di sistemarli poi quei bug, nel senso che se tu hai un bug in produzione, fixarlo costa di più che fixare un bug che non è ancora stato rilasciato. C'è tutta questa tematica che va molto forte nell'ambito DevOps di fare questa cosa che con un termine figo si chiama Shift Left, nel senso che se tu hai il grafico del tempo che va da sinistra verso destra che parte da quando scrivi codice a quando lo rilasci in produzione, se tu fai Shift Left, quindi ti sposti verso sinistra, qualunque cosa fai costa meno. E quindi quello che dice la legge di Linux è che fare Codreview è uno strumento che serve a fare Shift Left. Ma uno dei motivi per cui a me piace è anche che è un ottimo strumento per condividere la conoscenza a livello macro, nel senso che io vedo arrivare un request di un mio collega o comunque in generale di qualcuno che lavora sul mio progetto che implementa una nuova feature e so che quindi il progetto a cui lavoro ha questa feature in più e ne so di più su quello che fa il progetto a cui lavoro e quindi sull'ecosistema in cui lavoro, che può essere la mia azienda e quindi anche la mission aziendale, come fa la mia azienda a produrre valore o nel caso di un progetto open source, che cosa fa effettivamente il progetto a cui sto lavorando. Potrebbe essere un progetto molto grande e molto complesso e leggere codice in fase di merge è una cosa che mi aiuta a capirne di più su quello che fa il progetto, ma mi aiuta anche a capirne di più su come funziona il linguaggio o comunque su come funzionano alcuni modi per fare le cose nell'ecosistema linguaggio, framework e architettura in cui io mi sto muovendo come sviluppatore. Quindi per esempio potrei scoprire delle funzioni della libreria che non conoscevo potrei scoprire dei modi di fare le cose che non conoscevo oppure ancora posso farlo nell'altro senso posso suggerire ai membri del mio team un modo migliore di fare una cosa che avevano implementato in Apple Request e così facendo tutti quelli che entrano in contatto con questa condivisione allargano la propria conoscenza. Quindi è uno strumento che ha dei benefici in termini di conoscenza per tutto il team e a livelli diversi. Una cosa che mi piace molto e che secondo me non è così tanto scontata di avere un processo di code review è quello che si chiama rubber ducking cioè quella tecnica per cui quando tu hai un problema lo racconti a una papera di gomma e solo per il fatto che tu lo stai dicendo ad alta voce e quindi lo stai verbalizzando hai un approccio diverso al problema che stai esaminando e spesso e volentieri quando racconti il problema alla papera di gomma o a un collega capita che mentre lo verbalizzi ti venga in mente la soluzione. A me capita spessissimo di scrivere su Slack magari in questo periodo di andare da un mio collega anni fa quando esistevano gli uffici e di dire, sai ho questo problema sto facendo questa cosa così cos'ha ma non capisco perché non so ah ok mi è venuto in mente senza che l'altra persona mi abbia detto alcunché ma solo per il fatto di verbalizzare questa cosa mi viene in mente una soluzione diversa. Dover scrivere una pull request è fondamentalmente un atto di rubber ducking nel senso che quando scrivi la descrizione di che cosa fa il codice che hai scritto stai verbalizzando tutto il ragionamento che c'è alla base e a me stesso è capitato più di una volta che mentre scrivo la descrizione mi rendo conto di magari di un corner case che non avevo coperto o di un bug che non era evidente. Oltre a questo spesso e volentieri si dice che noi sviluppatori non siamo buoni comunicatori che non siamo capaci magari a trasmettere il valore di quello che facciamo magari a persone non tecniche. Scrivere che cosa fa il tuo codice e cercare di tradurre in un linguaggio corrente il ragionamento che c'è dietro secondo me è un'eccellente pratica in questo senso nel senso che ti forza un po' a chiarirti le idee e a praticare l'abilità di metterle per iscritto e quindi secondo me è una buona pratica in questo senso. Un'altra cosa super utile è che avere un pezzo di codice su cui stai discutendo con la persona che ti sta facendo con review o di cui tu stai facendo review ti dà uno scope molto ben definito per la discussione nel senso che non puoi discutere del fatto che quando era il suo compleanno la persona a cui stai facendo code review non ha portato le brioche in ufficio oppure che ha parcheggiato nel tuo parcheggio o cose del genere la discussione verte solo ed esclusivamente sul pezzo di codice che state guardando insieme e quindi non è che tipo ah però una volta in una call si era detto che questa cosa doveva funzionare così questa cosa non succede di fronte a una pull request e quindi è un modo molto utile per limitare lo scope delle discussioni in definitiva però il motivo per cui io sono così appassionato di questa roba da passare i miei martedì sera a raccontarla alle persone è che secondo me il motivo principale per fare code review è che è una roba che ti costringe a metterti nei panni di qualcun altro sia quando tu scrivi il codice e scrivi la descrizione del no pull request e ti devi mettere nei panni di chi la leggerà e devi cercare di scriverla in modo che capisca ma anche quando leggi del codice scritto da qualcun altro devi metterti nei suoi panni per capire il ragionamento che c'è alla base e insieme a questa persona cercare di fare in modo che il codice che poi viene emergiato e rilasciato sia il migliore possibile e questa cosa secondo me è una skill gigantesca con dei risvolti non solo a livello di codice ma secondo me è una skill importantissima che con le code review si può praticare diciamo comodamente da casa vostra come direbbero quelli che fanno le televendite un esempio bellissimo del motivo per cui le code review sono una buona idea è questo se voi conoscete un pochino l'ecosistema javascript sapete che c'è questo tool per installare le dipendenze che si chiama npm e funziona che quando tu vuoi installare una dipendenza e salvarla nel file delle tue dipendenze devi fare npm install meno meno save dev e poi il nome della libreria che vuoi aggiungere alle tue dipendenze cosa succede se tu ti dimentichi di mettere il meno meno prima di save dev che tu installi una dipendenza di nome save dev che è effettivamente a un certo punto era un package che stava nel repository delle librerie di npm poi i maintainer di npm se ne sono accorti hanno bloccato il nome fatto in modo che non si potesse aggiungere questa cosa ma immaginate cosa sarebbe successo se save dev fosse stata una dipendenza malicious che magari ti installa un miner di bitcoin nell'applicazione tutti quelli che si dimenticano di mettere il meno meno prima di save dev si installavano questa roba a loro insaputa e vedere nell'elenco delle dipendenze in una pull request aggiunta una cosa che si chiama save dev è una cosa che balza immediatamente all'occhio ed è proprio il classico caso in cui avere un processo di code review ti avrebbe salvato da da un problema del genere questa cosa è successa a me e quindi diciamo che ho dell'evidenza reale che le code review sono una cosa che serve non vi sto dicendo che serve perché vi sto dicendo che serve il problema è che ci sono molti modi di fare code review male o comunque di farlo in maniera non efficiente che è il motivo per cui il mio talk si chiama ottenere il massimo e farle in modo giusto o comunque nel modo che secondo me è giusto questo è un errore comune nel senso che una pull request così fatta in questo modo con questo numero di righe modificate questo numero di file modificati questo messaggio di commit che non dice niente e nessuna descrizione di fatto non sta dicendo ho scritto questo codice per favore dacci un'occhiata prima che lo mergi e lo lasci in produzione questa roba sta dicendo fondamentalmente io ti detesto non me ne frega niente del tuo tempo e mi stai sulle palle ed è una cosa che secondo me sarebbe meglio evitare un altro errore che ho visto succedere molto spesso è faccio una pull request e come reviewer assegno tutto il team quindi dieci persone si vedono arrivare la mail che Mattia ha mandato una pull request la aprono vedono che ci sono altri nove reviewer dicono si vabbè la guarderà qualcun altro chiudono e vanno avanti a lavorare e dopo tre giorni io devo pingare le persone una per una perché dicendo dai fammi review che voglio mergiare e quindi questa cosa non funziona è un diciamo un modo fallato di mettere in piedi questo processo la domanda legittima a questo punto è quanti sono i reviewer giusti e la risposta giusta è come a ogni domanda che si rispetti dipende nel senso che ci sono un sacco di team che ho visto anche famosi anche in letteratura lo fanno in modo diverso Google che è molto aperta in questo suo processo e lo dice pubblicamente fa fare code review a due reviewer tipicamente e sono di natura diversa nel senso che uno dei due deve essere owner del progetto su cui stai lavorando quindi deve conoscere il contesto in cui tu stai scrivendo del codice e quindi si presuppone che appunto conoscerà un po' quello che sta succedendo e sarà in grado di dire se il codice che tu stai aggiungendo al progetto di cui è owner è coerente con il resto del progetto oppure no l'altro reviewer invece non necessariamente deve essere a conoscenza di che cosa fa il progetto ma deve avere quella che Google chiama readability in un linguaggio quindi deve conoscere il linguaggio e le sue forme idiomatiche ed è l'idea di fondo è che una pull request fatta bene è comprensibile anche da chi non conosce il contesto specifico del progetto ma è diciamo scritta in buono stile nel linguaggio come immaginate un testo in italiano che rispetta le regole di grammatica che che non mette che ne so la virgola dopo e e rispetta tutte quelle regole che ci hanno insegnato dagli elementari alle medie e che esistono anche nei linguaggi di programmazione GitLab invece la fa leggermente diversa nel senso che è una cosa che ho visto succedere anche in altre aziende per esempio credo che la faccia Nearform fa quello che loro chiamano catena di reviewer nel senso che io posso mandare una pull request a una persona e questa persona autonomamente decide ok per me va bene si può mergiare oppure no voglio che faccia review un'altra persona ancora questa persona a sua volta può decidere che è mergiabile oppure aggiungere un altro reviewer e questa cosa ad libitum fino a che l'ultimo non vede che hanno già fatto review in dieci e lui è l'undicesimo probabilmente ok però fondamentalmente l'idea di fondo è che non c'è una regola che io adesso vi spaccio e vi dico ok fate così e va bene per tutti perché ogni team ha le sue dinamiche diverse ogni team ha la sua composizione diversa e ogni team funziona a modo suo nel mio team per esempio che è un team molto piccolo siamo in cinque diciamo che ognuno di noi cinque conosce molto bene una parte del nostro ecosistema applicativo quindi è facile che le review finiscano lui in quell'area ma sono aperte nel senso che a me piace fare il review e quindi spesso mi impiccio anche nelle pull request degli altri e comunque cerchiamo idealmente anche di far ruotare un po' il reviewer un po' per tutti i motivi che ci dicevamo prima perché se fa review sempre la stessa persona del codice di tutti ti perdi un po' molti dei vantaggi di prima ti perdi la condivisione della conoscenza aggiungi un collo di bottiglia che è il tizio che fa review e di fatto stai un po' vanificando il processo l'idea di fondo è che la regola sui reviewer andrebbe concordata con l'interesse del team e ovviamente come tutte le cose che si concordano all'interno di un team una volta che la scegli la scegli perché ne sei convinto tu team e quindi poi stick to it come dicono gli inglesi tutto questo perché quello che in ultima analisi vogliamo evitare e fare a tutti i costi in modo che non succeda è questa cosa qui cioè che arriva una pull request e io la leggo di corsa perché sono 500 milioni di righe perché non ne so niente ma mi hai messo a reviewer lo stesso o perché non hai scritto una descrizione corretta e dico sì vabbè dai mi fido è la terza pull request in un giorno che mi manda questa persona e le altre due andavano bene facciamo che va bene anche la terza e la provo di corsa e mergio della roba che non so cosa sia e questa roba di fatto è una tragedia perché contraddice tutti i vantaggi di prima non fa in modo che i bug emergano perché non li ho guardati non ci ho effettivamente messo un paio d'occhi in più davanti ma anzi al contrario sto creando una sensazione di falsa sicurezza per cui dico eh certo è stata fatta una review molto approfondita e mi hanno detto che va bene figurati sicuramente non ci saranno dei bug in questo codice lo posso emergere non sto condividendo conoscenza a nessuno dei due livelli perché appunto come dicevamo se nessuno legge il codice nessuno impara che cosa c'è in quel codice non sto permettendo alla persona che ha fatto questa pull request di fare rubber ducking nel senso che alla terza volta che io mando una pull request viene emergiata e so che non è stata fatta a review bene perché poi è uscito un bug in produzione questa cosa innesca un circolo vizioso per cui io alla fine non scriverò più nemmeno decentemente le descrizioni delle mie pull request perché tanto so che non le legge nessuno e quindi sono anche disincentivato a farlo bene e a fare a scrivere delle descrizioni chiare corrette e comprensive e quindi alla fine non ho nemmeno più quello strumento che posso usare per discutere di quello che deve fare il codice che scrivo assieme al resto del mio team e a lungo andare non sto nemmeno più praticando quella cosa per cui mi metto nei panni di qualcun altro quindi questa cosa di fare code review di fretta senza leggere davvero il codice scrivere schiacciare approve veramente ti supplico di non farla ecco però diciamo che ci sono diversi modi per scongiurare questa tragedia molte volte è sufficiente essere un good guy e cercare di aiutare il più possibile la persona che deve farvi review ci sono diversi modi per farlo uno è automatizzare quanto più potete all'interno del vostro processo di review quindi tutti i linguaggi del mondo hanno linter un beautifier un validatore dello stile ovviamente hanno dei test automatici e l'idea di fondo è che quante più cose facciamo fare automaticamente al al nostro ambiente di CI meno cose deve fare il reviewer quindi se noi abbiamo una suite di test che gira ed è verde e se noi abbiamo un linter che è valida che il codice rispetta tutte le regole di stile di indentazione di punti e virgole e quant'altro tutte queste cose a tutte queste cose il reviewer non deve pensare e quindi può concentrarsi su quello che effettivamente ha senso nel codice quindi che cosa fa e che cosa dovrebbe fare e che cosa non dovrebbe fare quindi di fatto più cose automatizziamo più carico mentale togliamo a chi deve fare review e quindi lo aiutiamo a non fare quell'errore di qui sopra un'altra cosa che ho scoperto essere molto utile in fase di scrittura di una pull request è cercare di anticipare possibili domande c'è un ragazzo nel mio team che è davvero bravissimo in questo nel senso che lui fa le pull request e se le commenta nei punti diciamo un po' più criptici del codice e quindi immaginatevi arriva questa pull request io la leggo arrivo a un punto di codice un po' ostico e c'è un commento che dice ho fatto così per questo 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 quest'altro motivo e questa roba per me che sto leggendo questo codice quindi già ho la mente impegnata a cercare di capire che cosa fa se tu mi dai una mano a capire perché è stato difficile da scrivere perché sei arrivato alla conclusione a cui sei arrivato mi stai dando una mano gigantesca e questa cosa io sono ogni volta che c'è uno di questi commenti che mi spiegano perché nella code review io sono sono super grato e super contento perché mi toglie un carico gigante però ok a questo punto siamo stati i più good guy possibili e schiacciamo il tasto send della pull request e a questo punto ci togliamo il cappello di quello che ha mandato la pull request e ci mettiamo il cappello di quello che la riceve la pull request quindi facciamo cambio di di parti arriva una pull request e c'è qualcosa che non va bene figata bellissimo la prima reazione che è assolutamente umana che ho anch'io è cazzo questa roba va ma com'è possibile che non te ne sei accorto e in realtà quello è il momento migliore di tutto il processo di code review nel senso che ci siamo accorti di un bug prima di rilasciarlo in produzione figata quello è il momento in cui come team dovremmo darci tutti quanti un 5 alto e dirci abbiamo risolto un bug che non c'era nemmeno bravi questo tizio si chiama Venkatsubramaniam è un tizio che ha scritto dei libri quindi è uno bravo parla spesso e dice cose molto intelligenti una delle cose di cui parla in un suo talk che si chiama 12 modi per far sì che il vostro codice faccia meno schifo una pratica che lui chiama tactical code reviews praticamente lui fa questa cosa per cui quando fa review di una pull request e trova un bug anziché commentare qui secondo me c'è questo bug così cos'ha lui aggiunge al branch di cui sta facendo review un test che fallisce per via di questo bug quindi allora detta così in effetti mi rendo conto che sia una cosa un po' passivo-aggressiva però è una cosa che è super utile per diversi motivi prima di tutto perché by design aumenta la test coverage del progetto e poi perché non è non lascia troppo spazio per le opinioni e per la discussione non è che puoi dire ma secondo me no secondo me funziona secondo me giusto c'è un test fallisce quindi evidentemente questa cosa dovrebbe funzionare in un altro modo e oltre a questo una volta che la pull request sarà mergiata comunque rimane nella codebase un po' di contesto storico rispetto a quello che è successo in quel momento quindi non ti perdi l'informazione che questa cosa nel momento in cui è stata fatta questa code review è successa questa cosa rimane diciamo scolpita nella pietra un libro e un approccio che mi piace tantissimo avere nel momento in cui stai leggendo dal codice scritto da un altro è l'approccio che suggerisce Kim Scott in questo libro meraviglioso che si chiama Radical Candor e lei dice che quello che devi fare è caring personally quindi avere sempre a mente che dall'altra parte dello schermo quando fai c'è una persona ma anche challenge directly quindi non devi avere paura di fare challenge e di contraddire quello che la persona sta dicendo in quel momento e dire secondo me questa cosa non è giusta è una cosa che aiuta tantissimo perché sono due piani della conversazione che secondo me sono importanti allo stesso modo e che vanno tenuti a mente tutti e due sempre allo stesso modo nel senso che io e tu ipotetico di cui sto facendo Code Review possiamo avere il peggior conflitto del mondo sul codice possiamo scannarci a morte sul fatto che io non sono d'accordo con quello che tu stai dicendo nel tuo codice ma io e anche tu ipotetico ovviamente siamo sempre comunque al corrente del fatto che dall'altra parte della discussione c'è una persona che quindi ha tutto il suo background tutto il suo bagaglio tutta la sua storia da cui non può prescindere e da cui nemmeno noi dobbiamo prescindere nel momento in cui stiamo facendo Code Review quindi io cerco di darmi e spero anche di aiutarvi ad avere una serie di regole che seguo quando faccio Review idealmente dovremmo cercare di stanare problemi in tutto quanto il codice quindi se arriva una Code Review una Pull Request da 500 righe e le prime 300 sono molto belle molto ben scritte oppure avevano dei problemi non vale dire ok ho fatto Review dei primi tre quinti il resto facciamo che va bene così perché perché non è così che funziona il processo allo stesso modo se ho guardato 300 righe e ho lasciato 5 commenti e quindi magari mi sento anche un po' diciamo fastidioso quando ho lasciato tutti questi commenti mi sento pichi mi sento uno che ti sta addosso e dico beh il sesto commento non te lo lascio dai non voglio sembrare troppo cattivo invece no nel senso che magari proprio perché non volevo sembrare cattivo va a finire che rilasciamo un bug in produzione e magari devo anche finire che devo sistemarlo io che per non sembrare cattivo non ti ho lasciato il sesto commento quindi idealmente proprio per questo motivo che la persona che potrebbe ritrovarsi a mantenere questo codice realisticamente sei tu dunque fai review devi fare in modo che il codice che tu approvi rispetti gli standard più alti possibile nel senso che appunto deve essere nel codice che tu ti senti a tuo agio a prenderne l'ownership in futuro in un futuro magari nemmeno troppo lontano allo stesso modo devi fare quello che appunto dicevamo prima che era in personal nel senso che se una persona appunto come dicevo all'inizio non ha portato le brioche il giorno del suo compleanno quindi sta un po' qui questa cosa è assolutamente al di fuori del processo di code review e allo stesso modo una persona potrebbe aver scritto il codice più agghiacciante del mondo ma essere il tuo miglior amico glielo devi dire ci sono anche dei casi in cui la comunicazione è un po' diciamo resa più difficile perché la persona che ha scritto il codice potrebbe non essere fluent nel linguaggio in cui l'ha scritto potrebbe non essere esperta nell'ecosistema in cui ha scritto potrebbe anche non essere per esempio nativa della lingua in cui ha scritto la descrizione magari la scritta in inglese perché stiamo su un progetto penso su GitHub ma non è madrelingua inglese e quindi è possibile che ci sia un po' di attrito dovuto alla barriera linguistica e questa cosa è una cosa di cui è importante tenere conto in fase di review una cosa importantissima è anche sapere sempre che fare code review è una cosa che richiede tempo nel senso che proprio perché vogliamo evitare le review fatte di corsa e senza leggere davvero il codice è una cosa che richiede tempo e attenzione la cosa positiva è che richiede un tipo di attenzione diverso dall'attenzione che richiede scrivere codice quindi in realtà è anche un ottimo modo per staccare quando magari hai un problema che non riesci a risolvere o un pezzo di codice che non vuole uscirti dalle dita perché sei un po' un po' bloccato staccare la mente e leggere del codice anziché cercare di scriverlo è un buon modo per fare un break ovviamente non serve credo che vi stia a dire che i modi migliori per fare una pausa sono andare a fare una passeggiata e staccare del tutto dallo schermo ma diciamo che una versione light di una pausa potrebbe essere fare con il review ci sono allo stesso modo alcune regole che secondo me è giusto seguire ci sono delle cose da non fare prima di tutto essere scortese di nuovo c'è una persona dall'altra parte e non c'è nessun motivo di essere scortesi e dire appunto questo codice fa schifo sei una capra non ti permettere mai più di mandarmi delle pull request del genere non ha nessun senso non fa bene a nessuno né a chi riceve la review né a voi che l'avete fatta anche perché realisticamente se lavorate in un team la persona a cui state facendo review molto probabilmente dovrà fare review di codice vostro e creare questo tipo di attrito non serve a nessuno allo stesso modo dire sì ok questo codice è bello ma tu hai parcheggiato nel mio parcheggio è completamente inutile e anzi dannoso come dicevo prima lasciare indietro qualcosa perché hai già hai già mandato cinque commenti a una pull request e non vuoi mandare il sesto perché poi sembri veramente scortese non è una buona idea quindi di nuovo che in person cercare di essere gentile con la persona che che sta dall'altra parte della review ma il codice non non si accorge se siete gentili o no il codice semplicemente vuole e lo volete anche voi essere il miglior codice possibile perché conviene anche a voi che poi dovrete mantenerlo e appunto siccome è una cosa che richiede tempo cercate di di darvi degli slot in cui fare code review quando quando esistevano gli uffici in un tempo passato a me piaceva moltissimo fare code review appena tornato da pranzo nel senso che subito dopo pranzo quando hai la biocca dopo mangiato sicuramente io non ho la testa per mettermi a scrivere codice leggere codice e commentarlo e fare review invece ho scoperto con l'esperienza che mi richiedeva esattamente il tipo di attenzione che ho dopo pranzo adesso invece che ho un figlio piccolo e che lavoro da casa quindi il mio pranzo dura molto meno e mi crea meno abbiocco mi piace molto fare review la sera dopo che mio figlio dorme anche lì è un momento in cui il livello di attenzione e il tipo di attenzione che ho è diverso non mi metto a scrivere codice la sera ma dopo cena una mezz'oretta un 40 minuti di con review lo faccio ovviamente non vi sto dicendo se dovete fare con review è giusto farlo la sera io lo faccio la sera perché preferisco staccare un po' prima alle 5 giocare un po' con mio figlio e fare il contro review dopo che dorme quindi avete trovato tutti i problemi nel coach avete scritto tutti i commenti che vi sono venuti in mente in mente per migliorarlo e schiacciate e inviate la review quindi di nuovo cambio cappello e siete il tizio che aveva mandato un request convinto che fosse meravigliosa e pronta per essere approvata e rilasciata in produzione e invece sono arrivati dei commenti la prima reazione assolutamente umana e normalissima è questa io ho scritto del codice una persona di cui io stima mi ha detto che questo codice non va bene quindi assolutamente sono una capra e non sono in grado di fare il mio lavoro non sono capace e questa cosa l'ho scoperto succede molto a quelli di noi che come me sono molto appassionati del nostro lavoro io spesso vado dicendo che se domani dovessi vincere il super enalotto e potessi non lavorare molto probabilmente andrei avanti a scrivere codice lo stesso perché mi piace e quindi ho un po' me ne rendo conto la tendenza a identificarmi col codice che scrivo perché mi piace molto scriverlo perché mi ha richiesto anche magari uno sforzo mentale intenso e quindi un pochino rischio spesso di identificarmi di pensare che il codice che ha scritto sia un po' parte di me e se quindi il codice che ho scritto qualcuno mi dice che non va bene allora sono io che non vado bene è un approccio costruttivo no l'approccio successivo che uno potrebbe avere è ecco questa persona mi detesta questa persona ce l'ha con me e la prossima volta che mi manda una pull request gliela faccio vedere io gli commento anche le virgole e anche questa cosa non è diciamo utile è utile tutto questo questo approccio no non è così che funziona in realtà diciamo che l'idea di fondo che ho scoperto funziona quando ti arriva una quad review è partire dall'assunto che la persona che ti ha fatto ti ha fatto review ha le migliori intenzioni possibili non ti sta dicendo che non sai fare il tuo lavoro non ti sta dicendo che non sei capace e non ce l'ha con te tendenzialmente anzi tipicamente ti sta facendo un favore nel senso che ti sta aiutando a rendere migliore il codice che hai scritto e che dovrai realisticamente mantenere ti sta aiutando a diventare uno sviluppatore migliore nel senso che magari ti ha insegnato un modo di fare qualcosa che non conoscevi ti sta aiutando anche a identificarti un po' meno con il tuo codice che è quel rischio di cui parlavo prima nel senso che ti sta dicendo ok questa cosa che hai fatto non va bene ma cerchiamo di diventare più bravi assieme e quindi quello che ti dice una code review tipicamente è questo non è che non sai fare il tuo lavoro in definitiva quello con cui voglio lasciarvi è una citazione di questo autore che si chiama Ryan Holiday che è molto bravo e ha scritto un sacco di cose e lui vede la differenza tra un direttante e un professionista o se volete tra un junior e un senior o tra uno bravo e uno meno che la differenza che lui dice è che uno bravo un professionista è che quando il professionista è shown up quindi è messo è messo allo scoperto per una sua falla per una sua mancanza un professionista questa cosa la apprezza gli piace essere sfidati essere challenged e anche messi in discussione perché sanno che è così che funziona l'apprendimento è così che funziona la crescita ed è così appunto che si diventa sviluppatori migliori io molte delle cose che ho imparato le ho imparate da delle code review sanguinose che ho ricevuto in cui davvero la prima la prima reazione che avevo era di chiudermi nell'armadio e piangere per un po' e la seconda era di andare su linkedin a cercarmi un altro lavoro che sapessi fare però poi quello di cui mi sono reso conto è che la persona che mi aveva fatto code review mi stava facendo un favore gigante perché mi stava aiutando a crescere e per fare questa cosa c'è bisogno di essere challenged di essere shown up e di essere anche humbled delle volte quindi a questo punto io non vedo l'ora di essere challenged ah no non è vero c'è una bonus track che è che mi ha chiesto mi ha chiesto Nicole nel senso che io ho chiesto a Nicole prima di venire qui raccontami un po' come è fatto come è fatto tipicamente il pub romagna come sono fatte le persone che vengono al pub romagna e mi ha detto guarda è un po' tricky perché tante persone magari sono freelance magari sono consulenti che lavorano in un team di cui non sono parte integrante ma lo sono solo temporaneamente o magari lavorano da sole e a queste persone si applica un processo di code review assolutamente sì bisogna un po' adattarlo nel senso che per esempio io mantengo un progetto open source in cui il grosso del codice lo scrivo io e non ho qualcuno che mi faccia review del codice non ho qualcuno che mi faccia challenge del codice che scrivo a chi la faccio fare la faccio fare al me stesso di domani nel senso che scrivo il codice faccio la pull request faccio tutt'altro per un po' e poi lo rileggo che è fondamentalmente la versione su github di quello che ti dice la professoressa d'italiano delle medie che scrivi il tema in brutta ma poi prima di copiarlo in bella lo rileggi e questa cosa è una versione light che puoi fare anche autonomamente senza aver bisogno di un feedback esterno di un'altra persona e funziona nel senso che un pochino ti aiuta a mettere della distanza tra quando scrivi il codice e quando lo leggi e quindi un pochino è come se lo vedesse una persona diversa prendo anche spunto da una domanda che ha fatto Giorgio in chat nel senso che se sei un consulente esterno al team o comunque non hai tanta leva sui processi del team diciamo che una cosa che ho visto succedere è che iniziare a farla e quindi fare quello che in inglese si dice get the wheel rolling cioè iniziare è un ottimo modo per dimostrare che questa cosa funziona quindi io magari sono un consulente e non ho tanta leva sul resto del team oppure ho bisogno di convincere il business che è un processo così ha senso metterlo in piedi la cosa più semplice da fare il modo più semplice per partire è mandare una pull request e scrivere a qualcuno ho scritto questa roba ma non sono tanto convinto mi ci dai un'occhiata prima che la mergi anche solo facendo così una volta due volte tre volte è un inizio e la volta che riesci a dimostrare che ti arriva un commento in cui c'era un bug che avresti lasciato in produzione senza senza un processo di code review hai vinto basta è finita è scientificamente dimostrato che questa cosa serviva quindi a questo punto io sono visto che già ho iniziato dalla domanda di Giorgio in chat sono pronto a essere challenged dalle vostre domande per le quali comunque assumerò le vostre migliori intenzioni di Giorgio di Giorgio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.